Musica Attendiamo risposte concrete sul futuro del plesso Orsi a Torre del Greco. C'è preoccupazione nelle parole della dirigente dell'Istituto Falcone Scauda, Maria Iosè, abilitato. Una vicenda che va avanti senza soluzione da ormai quattro anni. Il plesso di Via Lavatroia fu chiuso nel 2016 per problemi strutturali. Sono passati ben quattro anni ed io oggi sono ancora a dare voce a quella voce che i bambini del plesso Orsi, in Via Lavatroia, hanno fatto sentire nel novembre del 2016. Quel giorno fu subito diffuso un comunicato stampa dall'amministrazione comunale del tempo per tranquillizzare i genitori, per tranquillizzare i cittadini torresi in merito alla situazione di sicurezza dell'edificio. E subito si affermò che dai controlli fatti, dagli interventi fatti, la scuola risultava essere sicura. Eravamo nel novembre del 2016. Ancora oggi, nel 2020, noi non abbiamo la nostra scuola. Quella voce di nostri bambini, vogliamo la nostra scuola. Io oggi la riprendo con maggiore foga, con maggiore forza, in un momento che vede le scuole per una possibile apertura a settembre, così come il Ministero ci comunica, le scuole aperte ma in sicurezza. Ci servono gli spazi, ci servono le aule che ci sono state tolte. Tra l'altro non è ancora ben chiaro come, perché, quando abbiamo un edificio chiuso. La problematica non è stata portata nelle sedi opportune da chi avrebbe dovuto farlo. Io sono ottimista, positiva, così come i miei docenti, così come le mie famiglie ci rivolgiamo, così come abbiamo fatto pochi giorni fa, ci rivolgiamo all'attuale amministrazione, ci hanno ricevuto il sindaco, il vice sindaco, l'assessore e il dirigente dell'ufficio della pubblica istruzione e adesso noi attendiamo una risposta, attendiamo risposte concrete, in primis per riavere il nostro edificio, tutto in toto, in sicurezza, con documenti di agibilità adeguata, noi vogliamo la nostra scuola. Lo chiedono i genitori, il personale della scuola, i bambini, il dirigente. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco Giovanni Palomba. Noi abbiamo avuto un incontro una decina di giorni fa con la preside Iosea Abilitato e anche con alcuni professori del plesso e i rappresentanti di istituto. Per quanto riguarda la possibilità di rivedere sul plesso di Via Lavatroia, quello praticamente storico, se c'era la possibilità di una verifica che a illo tempo era solo per due aule, che c'era una verifica di stabilità di due aule e vedere tutta l'altra parte del plesso se c'era la possibilità di poter riallocare i ragazzini alla dorsi di Via Lavatroia. Di questo è stato preso l'impegno da parte dell'amministrazione comunale con i tecnici di andare a riprendere queste carte e quindi dare al preside Abilitato per tutto quello che poi sta avvenendo, per tutte quelle che sono le distanze del Covid, le nuove disposizioni che avremo e che non abbiamo ancora avuto. Questo fa sì che la preside possa ritornare, almeno in parte, nella vecchia sede che era di loro pertinenza. Nell'eventualità che questo non dovesse avvenire, stiamo vedendo insieme di trovare un'altra struttura comunale per far sì che questi ragazzini praticamente possano avere gli spazi giusti, perché non avendo un plesso loro, loro stanno a Leopardi in pratica, e dare la possibilità per questo istituto primario di avere una sede momentanea affinché praticamente riusciamo ad avere tutta la verifica di stabilità di tutta la struttura dell'Ursi. I tempi, per quanto riguarda la verifica, dovrebbero essere per metà luglio, perché se questa verifica dovesse avere, che sono solo una parte, quindi solo quelle due aule iniziali, adesso non ricordo, saranno tre o quattro anni che c'è questa questione, allora l'utilizzo di tutta l'altra area, sempre nella massima tranquillità, nei massimi rispetto di legge, agibità, stabilità, e quindi dare alla Preside il ritorno dei ragazzini nella sede storica.